La settimana di un giorno di giornata della 6-4-5 classe di Fire, andiamo a facciare le copie. Contra il segnale, con il numero 29, Antonio Raffordi, il giorno 40, il pietro. Con il numero 36, Antonio Raffordi, il giorno 40, il giorno 40, il giorno 40. A seguire le copie, la copia del 10-15-13, che parlava di scensione. Era la precedente della produzione del mondo, gli elementi che hanno avviuscato, gli elementi che hanno avviuscato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.